Pensa a tifare. Ma qualcuno gentilmente può spiegarmi che cosa cazzo vuol dire sta frase? Perché onestamente io non riesco proprio a trovarne il senso non tanto logico, ma il senso pratico. Cioè tu sei qui, fai un video, una volta finita la partita, commenti la gara, provi a spiegare a parole tue che cosa è successo, dai una tua interpretazione della gara ed alcuni commentano, nel momento in cui sentono determinate critiche rivolte a Pioli, rivolte ai giocatori, rivolte alla gara in generale, pensa a tifare. Ma nel pratico che cosa vuol dire? La partita è finita, finita, che devo stare a tifare? Ma devo stare qui, finita la gara, a fare dieci minuti di video in cui dico forza Milan alle alle, forza Milan alle alle, Milan, 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 per dieci minuti. Ora, ragazzi, io credo che bisogna definitivamente uscire da un equivoco e credo che bisogna mettere in chiaro una cosa che queste persone evidentemente non hanno ancora recepito. Il tifo nel 2024 è cambiato, cioè negli anni 80, negli anni 90 era tutto molto più semplice, era tutto molto più semplice, che andavi allo stadio, ti favi la tua squadra, esultavi per i gol, la tua unica fonte di informazione era la gazzetta dello sport o al massimo la domenica sportiva sul Re 2. e quindi vivevi il tutto in maniera più semplice. Oggi non è più così, oggi non è più così, cioè oggi i tifosi hanno accesso a dati, ad informazioni che fino a 30-40 anni fa non erano a disposizione neanche degli allenatori, non erano a disposizione neanche degli addetti ai lavori, quindi per forza di cose il tifo è cambiato, i tifosi sono cambiati, il tutto si è, tra virgolette, evoluto ed ognuno vive la sua passione per il calcio in modo diverso, c'è chi la vive in maniera più umorale, in maniera più viscerale, pensa solo a tifare, pensa al risultato, basta, il Milan vince, sono contento, non mi interessa conoscere determinati aspetti del gioco, non mi interessa approfondire, non mi interessa il parere di altri tifosi, mi interessa solo la vittoria del Milan e questa è una cosa rispettabile, per carità, ripeto, è un modo di vivere il calcio, di vivere il Milan, ma bisogna iniziare a comprendere che non tutti vivono il calcio in questa maniera, ci sono i tifosi che vogliono informarsi, ci sono i tifosi che vogliono capirne di più, ci sono quelli come me, i content creator, un cretino fondamentalmente che si mette qui a registrare un video e che fornisce il suo punto di vista, un punto di vista che non può però essere soltanto un forza Milan, perché nel momento in cui devo registrare dieci minuti di video, è chiaro che vi devo dare qualcosa in più, è chiaro che vi devo dare una mia interpretazione, è chiaro che vi devo dare perlomeno quello che io ho visto all'interno di una partita, poi si può condividere, si può non condividere, si può non essere d'accordo, ma se venite qui dovete essere pronti a questo, dovete essere pronti ad accogliere un punto di vista che potrebbe non essere uguale al vostro e di conseguenza dovete essere pronti ad un confronto perlomeno, perché se venite qua per scrivere pensate a tifare, pensa a tifare, se venite qua sotto pur essendo completamente rifrattari al confronto, cioè se il vostro unico modo di vedere il Milan, se il vostro unico modo di vivere la passione per il Milan è tifare, se il Milan vince va bene, non me ne frega nient'altro, la mia domanda a quel punto è che cazzo ci fate qui su YouTube? Che cazzo ci fate qui su questo canale? Cioè se non volete confrontarvi e volete soltanto sentire gente che dice Milan, Milan, che ci fate qui? Molto semplicemente non è questo il vostro posto, non è questo il vostro posto, probabilmente esistono canali fatti da persone che dopo le gare stanno lì a di Milan, Milan, ed evidentemente quello è il vostro posto, ma qui c'è altro, qui c'è altro, qui si cerca di approfondire un minimo, poi io lo ammetto, cioè non sono una cima, io sono un semplice tifoso che dà il suo punto di vista, nulla di più e nulla di meno, esistono molti altri canali fatti da tifosi molto più competenti di me che parlano della gara, degli aspetti tattici della gara, di cosa ha funzionato, di cosa non ha funzionato, se siete refrattari a tutto questo, se non sopportate l'approfondimento, se non sopportate la critica, ragazzi mi dispiace, ripeto, non siete fatti per internet, non siete fatti per internet, non siete fatti per youtube, semplicemente non è quello il vostro pane, e non potete venire qui a dire pensati fa, perché non ha senso, certo per carità potete, mi date un commento, un'interazione in più, però è una cosa che non ha senso, è una cosa che non ha senso, e lo dico a quelli che lo fanno a me, a quelli che lo fanno a molti altri content creator, perché noi vinciamo e voi state lì a pensare alla prestazione che non funziona, state lì a pensare al gioco, il gioco che non vi piace, e pensa a tifo, io tifo, io sono contento quando il Milan vince, sono contento quando l'arbitro fischia la fine e il Milan porta a casa i tre punti, però una volta finito quello, io devo venire qua, devo registrare un video per fornire il mio punto di vista, e devo dire quello che secondo me ha funzionato e quello che secondo me non ha funzionato. Mi sembra tutto semplice, chiaro, però evidentemente tutto questo da alcuni non viene sopportato, evidentemente in molti non riescono a concepire, non riescono ad accettare il fatto che oggi il tifo possa essere vissuto in altri modi, perché evidentemente sono persone nate, penso negli anni Ottanta, forse anche prima, tutte persone che evidentemente erano abituate a tifare in quel modo, o magari anche gente più giovane, ma che vive il calcio in maniera più, come dire, umorale, punto. Per loro il calcio è una questione di sangue, il Milan è una questione di sangue, il Milan è famiglia, il Milan non si critica, punto, il Milan si sostiene e basta. E il vostro punto di vista rispettabilissimo, ma è rispettabilissimo anche quello che faccio io, anche quelli che fanno altri, ovvero analizzare. Non è il non essere tifosi, non c'entra il pensate a tifare, è semplicemente un altro modo di vivere il tifo, che piaccia o non piaccia nel 2024, ripeto, con tutti i dati che abbiamo a disposizione, con tutti i social, con tutti i video, con tutto quello che esiste, è un modo di tifare che piaccia o non piaccia esiste, continuerà ad esistere, ed anzi, udite, udite, nel tempo diventerà sempre più evoluto, perché io sono sicuro che il calcio, con il passare degli anni, verrà vissuto da molti in maniera molto più critica, si andrà ad analizzare molto di più, diciamo, nel dettaglio quello che funziona e quello che non funziona. Ripeto, o accettate tutto questo e venite qui sotto per confrontarvi, oppure non lo accettate, venite qui sotto a scrivere il vostro commento, ma sappiate che è un commento da gente intollerante, da gente che evidentemente non riesce a concepire il fatto che altre persone vivano la stessa identica passione in un altro modo. Non ce la fate, mi dispiace per voi, ma ad un certo punto sono cazzi vostri. Io quello che posso darvi è semplicemente un consiglio, se siete aperti al confronto, ripeto, venite qui e confrontatevi. Se non siete aperti al confronto, è un consiglio che vi do, non entrate su internet, non andate a vedere i video di altri tifosi o i miei o quelli di altri che stanno qui ad analizzare quello che funziona e quello che non funziona, perché non ne ricaverete niente, vi farete soltanto il sangue amaro. E a che vi serve farvi il sangue amaro? Non serve a niente. A sto punto non vedete nulla e pensate a vivere meglio. Questo è un consiglio che vi do. Poi ripeto, se volete commentare, commentate, cioè mi date un commento in più, un'interazione in più, fa solo piacere, ma non ha assolutamente senso. Non ha assolutamente senso. E lo dico proprio per voi. Se volete vivere meglio, non venite qua. Non andate sui canali di altri. Non partecipate, perché questo è un posto di dibattito. Questo è un luogo in cui la gente dice la sua. in cui ognuno può dire la sua, lo può dire l'utente iscritto al mio canale, l'utente che guarda il mio video, lo può dire con un commento, può esprimersi anche semplicemente con un like, con un dislike, ma questo è un luogo di confronto. Pensate a tifare. È un concetto che esclude alla base ogni tipo di confronto. E mi dispiace, ma se pensate questo, evidentemente non è il posto per voi. Quindi, ripeto per l'ennesima volta il consiglio, se la cosa vi fa innervosire così tanto, voi mi dite, pensate a tifare. E ve lo dico anch'io, pensate a tifare. Andate a tifare, andate fuori a dire, Milano, Milano, in mezzo alla strada, con il bandierone. Voi siete contenti, non vi avvelenate il fegato. Ed io sto qua a parlare con la gente che vuole sentire qualcosa di diverso. Punto. Detto ciò, sempre Forza Milan, che qua si tifa in modo diverso, ma la passione è sempre quella. Vi invito a questo punto a commentare, a dirmi la vostra. A quante è quotato il commento? Pensate a tifare. Secondo me 1.01. Pensa a tifare, pensa a tifare. Grazie. Grazie. Grazie.